segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora lucio caracciolo la situazione della guerra in israele abbiamo sentito che hamas ha liberato due ostaggi israelo americani abbiamo visto che il valico di raffa verrà molto probabilmente aperto ma solo tra 48 ore la situazione a gaza resta sempre drammatica ci sono oltre 4 mila morti quasi la metà sono bambini ci sono oltre 13 mila feriti adesso israele ha chiesto di evacuare l'ospedale di al kuza gaza city quindi che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore visto che le forze armate israeliane hanno detto oggi con i raid aerei contro la striscia di gaza l'aviazione israeliana opera a un ritmo che non si vedeva da decenni sì è la prima fase delle tre fasi della guerra secondo quello che comunicano oggi gli israeliani la prima fase spianare gaza con gli aerei più o meno il 35 40 per cento degli edifici di gaza sono stati già colpiti speriamo anche un po di infrastruttura di hamas la seconda fase saranno le incursioni loro dicono incursioni poi vedremo cosa si intende per incursioni accompagnate da una battaglia di tutte le dimensioni cyber spazio mare vedremo di tutti i colori ma non è lo sbarco in normandia anche perché è stato spiegato dagli americani entreranno gli israeliani nella striscia di gaza entreranno per forza l'invasione di terra verrà fatta e quando non lo so ma quello che è certo è che non sarà diciamo una un'operazione di massa sarà un'operazione mirata almeno nelle intenzioni è molto facile che un'operazione mirata per esempio per prendere distruggere i missili che è il problema principale da un punto di vista anche in prospettiva israeliano e possibilmente prendere alcuni dei capetti perché i capi se ne sono andati di hamas si faranno delle operazioni di commando rinforzato però uno parte con questa idea e poi dipende anche da come risponde l'altro questo sul fronte di gaza ma non dimentichiamo che c'è un fronte nord e sbolla che c'è una cisa giordania sempre meno tranquilla cisa giordania è molto inquieta poi c'è però la terza fase che ancora non è molto chiara cioè una volta che sei entrato come ne esci gli israeliani dicono una volta ripulita gaza non vogliamo più averne a che fare e sì il problema è che questa battaglia non avviene nel vuoto ci sono due milioni di persone che non è che possono sparire nel nulla anche se magari qualcuno pensa che possono finire non so in egitto in giordania da qualche parte fra l'altro l'egitto la giordania sono molto preoccupati dalla possibilità di una invasione pacifica di profughi la gaza e da anche della cis giordania perché hanno al loro interno molti campi profughi di palestinese soprattutto la giordania che ha il 70 per cento della popolazione palestinese mario